Dottoressa Primori, finalmente anche FICO Italy World riaprirà. Manca poco. Siete al lavoro per questa riapertura? Siamo al lavoro con tutti i principali imprenditori presenti che sono qui e insieme stiamo pensando a tutti noi, in questo caso a tutti noi bolognesi, a tutti noi emiliano e romagnoli. Perché? Perché questo è un luogo unico, grande, con tre modi di stare dentro, proprio dentro, fuori coperto e fuori in mezzo al verde. E quindi stiamo riragionando tutta la nostra offerta con queste dimensioni. Come dire, sorridiamo con le mascherine. Immagino che siano state anche per voi settimane complicate quelle che hanno condotto alla chiusura di questo posto. Da poco era stato inaugurato anche il parco, insomma, divertimento per i bambini. Settimane all'inizio molto pesanti, soprattutto la prima, perché tu sei abituato a stare fuori, a stare con gli altri, a pensare ai turisti. Pensa che l'ultimo giorno è venuta comunque una televisione cinese da noi e quindi tutto l'esempio di questa cosa ti chiudi. E poi però apri la mente e dici no, dobbiamo riuscire, dobbiamo alzare la testa, dobbiamo guardare fuori, dobbiamo partire da chi? Da Bologna, che è il nostro cuore, la nostra anima e dobbiamo pensare positivo. E poi comunque creare un luogo dove tutti noi possiamo passare delle belle ore. Quando si riaprirà e come lo immagina? Che giorno sarà? Abbiamo scelto una giornata simbolo il 2 di giugno, Festa della Repubblica. Per noi è un nuovo inizio, un inizio di libertà. Un inizio di libertà dove dobbiamo sapere che la nostra socialità è diversa. è una socialità in qualche modo governata e che deve convivere col virus e quindi un po' distanziata. Però si parte dal distanziamento per stare assieme comunque. E vogliamo che ognuno di noi qui dentro trova il proprio spazio, dai bambini agli adulti e può scegliere se stare dentro o fuori. E poi abbiamo tante novità, compreso comunque di accompagnare le persone in sicurezza a vedere le nostre stalle, a vedere le nostre fabbriche. Come stanno reagendo le attività che sono all'interno di FICO? Immagino che siano anche per loro giorni di fermento verso questa data che ormai è vicina. Noi dobbiamo convivere con la paura perché noi abbiamo paura anche non soltanto del virus ma anche della crisi economica che è in qualche modo presente di tutto. Però convivere con la paura vuol dire sapere che c'è ma avere il coraggio di fare delle cose per cambiarle. Quindi devo dire che tutti i nostri partner stanno lavorando con una grande voglia di fare e così via. Tenendo conto che alcuni hanno lavorato anche quando eravamo chiusi. Penso al forno calzolare, penso comunque al suino nero. Cioè le nostre fabbriche hanno lavorato. Ma adesso sono qui a FICO e vedo negli occhi della gente la voglia di ricominciare. Noi vi aspettiamo, vi aspettiamo davvero con novità molto importanti per come potete passare le vostre giornate, le vostre serate. Stiamo pensando a menù dedicati, stiamo pensando a percorsi dedicati e stiamo pensando di potervi far prenotare degli spazi. Scegliete voi se volete mangiare nel meleto o nel peschetto o nell'uliveto.